Musica Bella a tutti ragazzi sono sempre io Pesco Oggi mi trovo sul pc e faremo un bel gameplay su un gioco davvero molto pauroso Ovvero Slender Non so se lo conoscete ma insomma Slender è davvero un gioco paurosissimo Ok avviamolo Abbassiamo il volume Ok start game Ok mi trovo in mezzo al bosco Devo trovare le otto pagine Però se arriva lo Slender Porca merda Oh mio dio io già ho paura ragazzi Oddio santo Guardate tutto buio Come faccio a trovare qua otto pagine Aiuto Ragazzi ho paura Oddio si sentono dei cani Ma se mi giro No non mi giro Non mi giro Oddio c'è una casa Si sentono dei rumori Oh mio dio ragazzi Io ho paura Ok ci entro il CG Oh là ci stanno pure dei container Ok Andiamo a vedere in mezzo ai container Ok La non c'è niente Lì non c'è niente Neanche qui Oddio 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 io ve lo dico Oh ho visto qualcosa Ecco una pagina Ragazzi ho i brividi C'è lo Ok Una di otto Perfetto Dai dai Me sto gasà Voglio lo Slender Lo do più a pizze Io do tante botte Allo Slender Su Lo voglio Oddio però sta musica Te mette ansia Aiuto 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 No io non mi fido Entra là dentro Andavo in mezzo alla foresta Tanto per cambiare Oh Ma se stava oscura Significa che stava qui vicino a me Oddio santo Io non lo vedo Oddio ecco lo Slender Ah No 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 Sono ancora vivo Dove eccolo Ancora ci sta Ancora Oddio Aiuto Ancora No Non se ne andava No Oddio solo una pagina Ragazzi mi sono quasi cagato in mano Va bene ragazzi Spero la prossima volta Di Di trovare più pagine Ma Cioè Io non lo so Già la prima pagina Mi appare so Slender davanti Che mi fa cagare in mano Va bene ragazzi Spero vi sia piaciuto Il mio video Mi raccomando Commentatevi Iscrivetevi Iscrivetevi Soprattutto iscrivetevi E Mi raccomando Visitatemi Anche su Twitter Instagram E Facebook Mi raccomando Fatemi Tantissime domande Cliccate un Mi piace Ma soprattutto Iscrivetevi Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti